Caro signor Moschietto, ieri ho avuto appena il tempo di dare un'occhiata alla vostra farmacia. Ne ho potuto notare l'ordine meticoloso che ti regna e la modernità di ogni minimo particolare. Caro dottore, voi siete troppo erogente. È una cosa che mi sta a cuore, perché per me il medico che non può avvalersi di un farmacista di primo ordine è un po' come un generale che va alla guerra senza artiglieria. Mi compiaccio di vedere che apprezzate l'importanza della professione. Ed io ti direi a me stesso che la vostra organizzazione merita la sua giusta ricompensa. Io credo che un minimo di 25.000... Di utili! Volesse Dio che ne facessi la metà. Io a Moschietto, voi davanti non avete un agente del fiscolo, ma un amico. Anzi, oserei dire a un collega. Caro dottore, non vi faccio l'ingiuria di diffidare di voi. A dire la verità, è già tanto se arrivo a passare 10.000. Ma è uno scandalo questo. La cifra di 25.000 per me era un minimo. Eppure non avete concorrenti. Nessuno. A 20 chilometri di distanza. Ma è il più piccolo errore, vi prego di crederlo, in 10 anni di esercizio. E allora mi ripugna di fare un'altra ipotesi. Quella che il mio predecessore non è stato all'altezza del suo compito. Il dottor Farfallami. Una garbatissima persona. Privatamente eravamo nei migliori rapporti. Ma non si farebbe un gran volume d'affari con la raccolta delle sue ricette. Lo avete detto. Nei primi tempi. Io facevo le ammette tutto il possibile. Bastava che uno venisse a lamentarsi da me. E nel caso mi sembrasse un po' più grave perché io subito glielo rimandassi. Felicissima notte. Quello non si rifaceva più vivo. Quando penso a tutto quello che ora so di lui, giungo a chiedermi se credesse davvero nella medicina. E la parola sabotaggio mi viene alle labbra. Sì. Certo. A parte ogni questione di danaro. Vi assicuro, dottore, che ci vuole una bella coscienza lasciarsi cadere al di sotto dello stagnaio e del pizzicano. Mia moglie ci deve pensare dieci volte prima di comperarsi un cappellino, un paio di calze di seda, che la moglie del pizzicano lo sfoggia tutti i santiccioli. Zitto. Zitto, amico mio. Zitto, che così mi fate del male. Vedete, io sono convinto che ogni abitante del nostro paese debba essere ipso facto un nostro cliente designato. Tutti. E' pretendere troppo. Dico tutti. E' vero che ognuno in vita sua può divinire da un momento all'altro il nostro cliente è occasionale. Occasionale. Niente affatto. Cliente regolare. Se, de, le. E bisognerà pure che si ammalino. Ammalarsi. E' una vecchia nozione che non regge più davanti ai dati della nuova scienza. La parola salute è un termine che potrebbe essere cancellato tranquillamente dal vocabolario senza alcuni inconvenienti. Io per conto mio conosco persone più o meno ammalate, di malanni più o meno numerosi e dall'evoluzione più o meno rapida. Certo, se voi andate a dir loro che scoppiano di salute non fanno altro che voler ascoltare queste vostre parole. ma voi l'ingannate. E' una bellissima teoria. Siete un pensatore con il dottor Knock. Signor Moschetto Io sarò forse un presuntuoso ma se voi entro un anno non avrete la giusta ricompensa. Se la signora Moschetto non andrà in giro con vesti, calze e cappelli che la sua condizione esige io vi autorizzo a venirmi a fare una scenata. Caro dottore sarei un ingrato se non vi ringraziassi con effusione Non miserabile se non vi aiutassi con tutto il mio potere. State bene contate su di me come io conto su di voi.